John Borno ragazzi, John Borno, John Borno e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questa tier list del mondiale 2022. Oggi ragazzi, me l'avete chiesto in tantissimi, andremo a fare la tier list del mondiale, secondo me, insomma, chi è che ha zero chance, chi è che ce n'ha un po' di più, eccetera. Però, prima di iniziare vi dico delle cose importanti. La prima è che è uscito in librerie, in tutte le librerie, il mio libro sui mondiali, Guida al Qatar 2022. Quindi se non l'avete già fatto, mi raccomando, acquistate il mio libro, acquistatelo, mi raccomando, comprate le copie, le trovate ovunque, le trovate in libreria, le trovate su Amazon, le trovate praticamente dappertutto. Quindi se vi va di acquistarlo, mi raccomando ad acquistare il mio libro sui mondiali in Qatar. Oltre questo, ci tengo anche a dire un'altra cosa. Se lasciate una marea di mi piace, vi posso pensare di portare la tier list per simpatia, cioè da quella che mi sta più sul cazzo a quella che invece mi sta più simpatica e io mi auguro che possa vincere il mondiale o fare meglio possibile. Ma questo dipende da voi. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, perché chi non si iscrive al canale non arriva a Natale. E quindi se volete arrivare alle festività natalizie mentre io bevo un caffè, iscrivetevi al canale. Detto questo, partiamo subito. Allora, prima di partire come sempre, dobbiamo guardare un attimo i vari scalini della tier list. Lo scalino più basso è Zero Chance, cioè quindi quella che per me non ha nessuna, e sottolineo, nessuna possibilità di vincere il mondiale. Ci sono queste squadre. Diciamo che Zero Chance è proprio quelle squadre che si arriveranno ultime nel girone e arriveranno ultime nel girone e già stanno facendo qualcosa di importante per esserci al mondiale. E in realtà di solito le tier list sono al contrario, perché verde è la migliore, rossa è la peggiore, però ovviamente facciamo il grado di giudizio a salire, quindi Zero Chance è l'ultimo tassello. Poi però abbiamo un altro tassello, cioè a salire ne abbiamo un altro. Il tassello in questione è sicuramente Underdog. Underdog sono le squadre che partono come le sfavorite. Partono come le sfavorite del mondiale, quelle squadre che, insomma, è difficile che possano vincerlo, che non finirebbero mai tra quelle che possano vincerlo, però che comunque, magari a grande sorpresa, arrivano agli ottavi, strappano qualche consenso particolare. E quindi io mi sento di... diciamo che le Underdog forse sono un piazzamento molto dedicato a quelle squadre africane, no? Quelle squadre che ci buttano il cuore oltre l'ostacolo e che magari hanno anche quella possibilità di arrivare, non dico fino in fondo, ma una buonissima posizione in questo mondiale. A salire abbiamo le Outsider. Le Outsider sono le squadre che non partono assolutamente favorite, però hanno quella possibilità di arrivare fino in fondo. Cioè, sicuramente ci sono le compagini migliori, ci sono le compagini più forti, ci sono qualche... sicuramente ci sono delle squadre che sulla carta partono molto più come favorite, però sono le Outsider, ragazzi. Cioè, il termine Outsider spiega esattamente di che cosa stiamo parlando, quelle grandi sorprese che possono arrivare fino in fondo. Poi abbiamo le Favorite Ma. Le Favorite Ma sono le squadre che partono tra le prime, quindi, insomma, che sono 4 stelle e mezzo, 5 stelle, eccetera, però, questo è un grande però, però sono anche quelle squadre che c'è qualcosa che non mi convince per dire che vinceranno il mondiale e quindi magari gli manca qualcosa, c'è qualcosa che mi fa storcere il naso, c'è qualcosa che potevano fare in modo diverso, qualche progettualità che non mi torna e quindi sono le Favorite Ma. E poi ci sono le Super Favorite, quelle che per me partono con l'obiettivo di vincere il mondiale e che hanno tutte le carte in regola per farlo. E la prima in questione, e una di queste, è la Germania. Ora, per me la Germania ha delle squadre davanti. Quando avremo finito questa tier list andrò a prendere poi squadra per squadra, da sinistra verso destra, le metterò dalla prima posizione all'ultima posizione, quindi, insomma, andrò a mettere le squadre nella tier list anche se non è in ordine di come sono le Favorite per questo mondiale. Però la Germania, per me, è matura. La Germania ha cambiato progetto. La Germania ha chiuso ufficialmente il ciclo Lowe. Ha chiuso il ciclo Joachim Lowe, ha riaperto un altro ciclo, ha provato a ricominciare da capo, con le grandi difficoltà, sempre senza una punta, perché Moukoukou e Adeyemi sono due ottimi calciatori ma non sono ancora a livello di altre punte che magari sono quelle della Francia, ad esempio. In realtà, posso dire una cosa? Non capisco. Ah, perché qui ancora non avevano... Ok, no, e qui quando hanno dato questa tier list ancora non si sapeva chi passava e dopo ve lo dico. Mi era un attimo un pari che ho detto, ma perché le stavano tutte queste bandiere qua? Vabbè, dopo le andiamo a prendere. Fatto sta che vi dicevo, la Germania non è, secondo me, la super favorita. Però è una delle super favorite. Non ha ancora la punta, ma ha una squadra molto molto forte. Poi lo diceva, se non sbaglio, Sané, Leroy Sané. Diceva, io credo che la Germania non abbia super campioni. Se tu pensi alla Germania, non pensi a dei calciatori, pensi alla Germania. Perché noi non vogliamo leader. Noi vogliamo una squadra compatta, dove tutti contano il giusto e che si provi ad andare a vincere. E per me questa è la forza della Germania. È vero che all'ultimo conto le sono uscite dei gironi, ma immaginarmi un mondiale nel quale la Germania non arriverà tra i primi quattro posti, a mio avviso è davvero, davvero utopia. Poi vedo quella che credo sia l'Arabia Saudita. E non me ne voglia l'Arabia Saudita e i tifosi sauditi, ma io la metto nelle zero chance. Per l'Arabia Saudita, secondo me, è già tanto essere qua. Cioè, per l'Arabia Saudita è già davvero, davvero tanto far parte di questo palmo, di questo roster dei mondiali. Perché l'Arabia Saudita ha poche qualità, come Rosa. Ha pochi calciatori che hanno tentato l'esperimento che poi è sempre quello relativo al fatto di lanciare i giocatori che vadano a giocare in Europa. Tutti i calciatori più o meno dell'Arabia Saudita già hanno il campionato domestico. E questa è una cosa che un po', secondo me, perde nell'Arabia Saudita. Però comunque io li piazzo là perché credo che lì sia la posizione più adatta per loro. Non credo che possano essere un po' più in alto di così. Tra l'altro sto cercando di vedere anche gli stemmi perché magari quasi tutti li riconosco, però non proprio tutti. E quindi, insomma, mi aiuto così. Vabbè, non questi ovviamente, non Argentina, Belgio, Brasile, Cameron, Canada, eccetera. Ma magari, questa che cazzo è l'Olanda? No, che cos'è questa? Perché non so cos'è questa? No, non è l'Olanda, non so cos'è questa. Vediamo, lo vediamo. Vabbè, me lo vedremo. E poi anche tipo qua, dovete un attimo. Vabbè, andiamo sull'Argentina. Argentina, Argentina, super favorita, ragazzi. Allora, non so perché, non so perché vi dico la verità. Perché comunque, ad onor del vero, l'Argentina, andando a prendere la rosa sulla carta, a mio avviso, non parte come la favorita. Non parte come una delle favorite tra le più forti. Perché comunque c'ha dei calciatori validi, ma ce n'ha tanti altri che devono ancora esplodere. Perché sì, hai Messi, ma hai anche Palacios. Sì, hai Otamendi, ma hai anche, che minchia ne so, hai anche il calciatore del Guido Rodriguez. Sì, hai Lautaro e Di Maria, ma magari hai anche un giocatore che deve ancora esplodere. Quindi, insomma, l'Argentina sulla carta è una squadra molto, molto forte, ma che ancora non dà quel senso di vinco io il mondiale. Però, io ho la sensazione che quest'anno l'Argentina possa vincere il mondiale. Un po' per Lionel Messi, un po' perché la squadra ci crede, un po' perché credo che il primo mondiale arabo possa dare in mano all'Argentina. L'Argentina è pronta. Con Lionel Scaloni ha iniziato un nuovo progetto. Un progetto di crescita che sta oggettivamente pagando. Ha vinto l'ultima Copa America. Ha vinto la super finale contro l'Italia, dimostrando tra l'altro una netta superiorità. Io credo che l'Argentina sia pronta definitivamente per provare a vincere il mondiale. Questo è il Belgio. Il Belgio lo metto nelle favorite ma. Favorite ma perché non sto parlando solamente di rosa. Io voglio farvi fare attenzione a questa cosa qui. Non si parla di rosa e basta. Non si parla della squadra e basta. Qui si entra un po' più nel contesto di dire il Belgio dove può arrivare. E storicamente il Belgio è una squadra, ne parlavo poi, è una squadra che è, come posso dire, forte per noi. Forte per quelli della mia generazione. In passato il Belgio non è mai stata la grande squadra forte. Anzi, è stata spesso una squadra, non dico bistrattata, ma che delle volte non riusciva nemmeno a qualificarsi al mondiale. E quindi, negli ultimi anni ha fatto un upgrade clamoroso. È arrivato dove è arrivato. Però poi, quando conta, sì, prenderanno anche il primo posto nel ranking. Però quando conta, loro si fermano sempre. Puntualmente quando conta, loro si fermano. E visto che hanno questa cosa, e visto che loro si fermano puntualmente quando conta, ho paura che anche quest'anno possa mancare qualcosa, quel tradizionale centesimino per fare l'euro, per vedere il Belgio sul tetto d'Europa. Cosa che invece non credo minimamente possa accadere al Brasile. Il Brasile, ragazzi, è una selezione... Mi fa ridere perché hanno, di qualche volta, entrato una selezione. Ma veramente, se avessero messo, invece che top 11 su FIFA, il Brasile, sarebbe stato più o meno la medesima cosa. Brasile che è una squadra straordinaria. Che il Brasile ha una squadra pazzesca. Da Vinicius a Neymar, da Richarlison a Rodrigo. Ma veramente assurda. Anche Paqueta ha preso responsabilità dietro, sì, magari hanno Tiago Silva, ma per un Tiago Silva che sta per finire. C'è un Marquinhos che è nel piano della carriera e c'è un Eder Militao che è appena iniziato. Un Bremer in rampa di lancio. Insomma, il Brasile, ragazzi, è completo. In porta c'è Ederson e Dalisson. Sulla carta, secondo me, ve lo anticipo adesso e già ve la metto, il Brasile è la squadra più forte. Più forte! Più forte del mondo! Poi, questo non vuol dire che vincerà il Mondiale, se volete sapere secondo me come arriveranno tutte quante, qua forse proprio dove sono io, vi metto appunto nelle schede la possibilità di andare a vedere il mio tabellone, il mio pronostico del tabellone. Però credo che il Brasile sia davvero per distacco la squadra più forte. Poi, se non dovesse vincere, può capitare, non sarebbe niente di strano, però per me il Brasile è la squadra più forte del Mondiale. Poi abbiamo il Camerun. Allora, io il Camerun la metto tra le underdog, sebbene la vedo come un underdog al ribasso. Diciamo che dei buoni calciatori li ha, ma è molto 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 difficile anche solo ipotizzare, a dirvi la verità, che questo Camerun nel girone con Serbia e con Svizzera, oltre che con il Brasile, riesca a passare il turno. No, dai, la metto nello zero chance. Dispiace in realtà, perché a me poi il Camerun sta simpatico, anzi in realtà, se posso essere sincero, praticamente tutte le squadre africane mi stanno molto simpatiche, notano una grande simpatia per tutte le squadre africane. Però, al momento, io credo che il Camerun abbia poche possibilità anche solo di passare il girone. Questa è la mia impressione, questa è la mia ipotesi. Certo è che comunque anche loro hanno messo in piedi un progresso di crescita importante, non gli ha detto bene a livello di sorte, perché sicuramente poteva dirgli molto molto meglio, non gli è andata benissimo, mi stava cascando tutto, non gli è andata benissimo. Però, insomma, questo è, e io penso questo. Sul Canada, invece, la metto come underdog. Allora, il Canada, così come il Messico e così come gli Stati Uniti, si stanno preparando molto 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 bene per quello che sarà il prossimo mondiale che intri ospiteranno nel 2026. Il Canada fosse finita qui quattro anni fa, vi avrei detto, la metto tra zero chance. Io oggi, però, non sono così sicuro, vi dico la verità, che il Canada non possa non passare il girone. Io credo che il Canada sia una squadra che pian pianino si sta attrezzando, che pian pianino sta cercando di prendere sempre più piede anche nel panorama calcistico mondiale. Il Canada è una squadra che, zitta zitta, ha messo in cassaforte anche dei calciatori che si possono definire campioni, come Buccianan, come Jonathan David, come Alfonso Davis, come Ostachio, che sta facendo la voce grossa al porto. Insomma, pian pianino il Canada sta dimostrando di saperci stare. Ora, è una squadra tra le più scarse delle underdog, però io voglio farvi fare attenzione a quella che potrebbe fare la squadra della foglia d'acero. Credo che si chiami così. Visto che al momento non mi sovviene questa che squadra è, mannaggia la puttana, non leggo manco che c'è scritto, non so che squadra sia. Che può essere questa che è blu? Cosa può essere? Cosa può essere che è blu? Non lo so, però vi posso dire, vado avanti e la faccio dopo quando mi uscirà fuori. Sicuramente voi già l'avrete individuata perché sarete dei fenomeni, avrete iniziato a dire tipo, sic, ma come fai a non riconoscerla? Ma sei proprio un coglione e avete in parte ragione, vi chiedo scusa, anzi. Passiamo alla Croazia. Per me la Croazia è un outsider. Io credo che la Croazia possa ampiamente deludere le aspettative, io credo che la Croazia possa ampiamente fare male in questo mondiale perché la squadra ce l'ha, perché oggettivamente ce l'ha e ovviamente bisogna anche considerarla come la finalista dell'ultimo mondiale e sembra strano, sembra strano, ma è così. E sembra strano anche metterla tra le outsider, però devo anche ammettere come ci sono squadre secondo me più attrezzate e credo che la Croazia sia a fine ciclo. La vedo proprio completamente a fine ciclo, quindi non la metto nemmeno tra le favorite, ma non tra le super favorite ci mancherebbe altro. Ha i suoi giocatori sicuramente, da Perisic a Brozovic è passato per Modric, però secondo me non farà poi così bene come magari ci si potrebbe aspettare. Tra le outsider, ma queste sono outsider invece, ecco se la Croazia è un outsider che scende da favorita da outsider, una che sta salendo drasticamente giorno dopo giorno, è la Danimarca. Che per me quest'anno è l'anno della Danimarca. Da Kier a Eriksen, passando per Schmeichel e tanti 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 altri, ne potrei citare un miliardo, un miliardo no ma una quindicina sì. La Danimarca è una squadra che ha messo in atto una crescita importante, l'abbiamo visto anche all'ultimo europeo dove è arrivata fino in semifinale, nonostante tutti quei problemi lì. Nessuno si sarebbe aspettato un anno fa di vedere un anno dopo la Danimarca al Mondiale guidata da Christian Eriksen e invece questo è successo, succederà ed è molto molto bello. La Danimarca è difficile che vinca il Mondiale ma per me agli ottavi e anche ai quarti può arrivarci con grande tranquillità e quindi io personalmente la vado a mettere lì. Poi abbiamo l'Equador, dispiace, io l'Equador forse è un po' a grande sorpresa in realtà perché è in un girone che può tranquillamente superare con Olanda, Qatar e Senegal. Però io l'Equador la metto in zero chance, io non vedo l'Equador con delle chance di vincere il Mondiale, vi dico la verità. Non so se passerà il turno ma anche se dovesse passare il turno magari la vedo come una sorpresina che passa il turno e poi viene scalzata, non la vedo come un underdog. Cioè se agli ottavi dovesse capitare magari una Belgio-Canada, io vi dico attenzione, non sottovaluate questo Canada perché dovesse capitare Belgio-Equador, faccio il segno della croce e dico vediamo se sta partita a senso unico. Quindi personalmente penso che possa andare in quella direzione lì. Poi magari sbaglio io, a me l'Equador non fa impazzire. Sì è un progetto anche l'Equador in crescita del calcio sudamericano, una dimensione sicuramente molto molto interessante, però comunque ancora non la vedo più in alto di così. E chiedo scusa nel caso ai ragazzi ecuadoriani. Spagna la metto tra le favorite. Sì, sì. Allora diciamo che se ci mettono la Germania ci metto anche la Spagna. Perché sì, perché la Spagna è una squadra che tra l'altro io invidio tantissimo. Perché è una squadra giovanissima, ma veramente giovanissima. Ma veramente 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 giovanissima. Eppure è lì, eppure è lì che può vincere il mondiale. Cioè la Spagna ragazzi con l'ossatura a Barcellona, con un Barcellona che ha perso tutti i giocatori. Con Pedri, con Gavi, con Ansufati, con Ferran Torres, con Inaki, quell'altro William, quell'altro. Come cazzo si chiama? Nico Williams. Cioè la Spagna c'ha un botto di ragazzini, ma veramente un botto. Anche i difensori sono molto giovani. C'ha un botto di giocatori giovani, eppure già vince, già può provare a vincere il mondiale. Per me è una squadra che si fermerà tra i quarti e le semifinali. Però per me è tra le favorite. Cioè quando si affronteranno, se magari in semifinali si dovessero affrontare Brasile, Argentina, Germania, Spagna. Io vi dirò, per me possono vincere tutte e quattro e non mi stupirei. Cioè se questo mondiale andasse alla Spagna, personalmente non mi stupirei. E quindi la Spagna la vado a mettere in super favorita. E invece con un grande colpo di scena, la Francia la vado a mettere in favorita ma. Allora, la Francia a pieno regime è una nazionale che per me è più forte del Brasile. La Francia non è a pieno regime. Alla Francia manca Pogba. Alla Francia manca Kanté. Alla Francia manca Nkunku. Ora, per quanto Nkunku possa pesare poco, e non perché Nkunku non sia forte, anzi Nkunku secondo me lo mette Nkunku a quasi tutti i giocatori europei che andranno al mondiale. Però la Francia lì davanti c'ha Griezmann, c'ha Mbappé, c'ha Benzema. Cioè, ragazzi, parliamoci chiaro, c'ha una squadra che comunque, un roster offensivo che comunque non sente, non risente della mancanza di Nkunku. A centrocampo secondo me la situation è diversa. Perché? Perché a centrocampo con le mancanze di Pogba e Kanté tu giochi con un centrocampo fatto da Kamaving e da Chouameni. Che sono due giocatori forti, forti, forti. Che sono due giocatori di rampa di lancio, che sono due giocatori che già stanno pian pianino assorbendo la pressione. Però non sono Pogba e Kanté. Cioè, prima tu dicevi, cazzo, la Francia, ragazzi, c'ha Pogba e Kanté titolari. E in panchina c'ha Kamaving e Chouameni. E volendo può anche convocare Rabiot. E all'improvviso, invece, il primo panchinaro è diventato Rabiot e anche vere tu. Cioè, quindi capite bene come la Francia a centrocampo abbia verso tanto. Poi io credo, sinceramente, che la testa faccia molto. E il fatto che si sia detto, e si dica ormai puntualmente, che chi vince il Mondiale e poi esce Gironi, che è una cosa che succede anche in modo ciclico, io credo che stavolta si possa ripetere. In realtà la Francia ha un girone molto semplice per uscire a Gironi, con Danimarca, Australia e Tunisia. Però io non metto in dubbio che qualcosa possa accadere. Quindi io la Francia la metto in favorite, ma... Il Ghana lo metto in... Il Ghana, ragazzi. Credo che anche il Ghana abbia zero chance. Non di passare il Mondiale, eh. Di passare il girone, eh. Perché il Ghana, volendo, può anche provare ad approfittare di un Portogallo o di un Uruguay, che magari perde un qualche punto. Però il Ghana, che poi in realtà quando c'è il Ghana passa sempre il girone. Ricordatevi questa cosa ogni volta che il Ghana fa il Mondiale, il girone non esce al girone. Passa sempre il turno. Ed è vero, ed è verissimo. Però devo dire anche che il Ghana è una squadra che... Non lo so, quest'anno secondo me non è come le altre annate, non è come gli altri mondiali. La vedo un po' più scarica, la vedo un po' più vuota. C'è Inaki Williams, questo sì. Quindi per il resto non la vedo come una compagine che possa sobbalzare verso l'alto. Ma magari sbaglio io. Procediamo con l'Inghilterra. L'Inghilterra mi tocca metterla tra le superfavorite. Ce ne sono non tantissime, adesso cinque. Però sì, per me l'Inghilterra è tra le superfavorite. Ed è tra le superfavorite proprio per il progetto di miglioria e di costruzione fatta con Southgate. Tutti odiano Southgate, tutti pensano che Southgate sia un coglione. Ad ognuno il proprio pensiero. Io non credo che Southgate sia un coglione, ognuno lo pensa esattamente come preferisce. Fatto sta che però l'Inghilterra ha costruito qualcosa. Ha fatto la semifinale dell'ultimo mondiale, ha fatto la finale dell'ultimo europeo. Adesso è matura per vincere. La rosa ce l'ha. La rosa ragazzi ce l'ha. L'Inghilterra c'ha una rosa che è fenomenale. L'Inghilterra c'ha una rosa che forse presa nei singoli è quasi più forte di tutte le altre. C'ha un via via di acquisti. Però devo dire che Southgate delle scelte non azzeccate le ha fatte. Perché io penso che se avesse convocato dietro anche Smalling e Tomori, l'Inghilterra avrebbe in questo momento la rosa più forte del mondo. Non ce l'ha perché dietro giochi con Maguire e con Dyer. Maguire, Dyer e in altro che non mi ricordo al momento. Quindi insomma, il problema a mio avviso si può porre sulla fase difensiva dell'Inghilterra. Però secondo me resta tra le superfavorite. Sia per il progetto messo in atto che per tutto il resto. Poi c'è l'Iran. L'Iran per me zero chance. Non si sa mai. Qualche calciatore ce l'ha. Jan Bash, se non sbaglio, credo sia iraniano. Jan Bash. Jan Bash. Credo sia iraniano. Aspettate un attimo. Come cazzo si scrive? Vabbè comunque raga, vediamo un attimo. Eccolo qua. Jan Bash. Iraniano, sì. Diciamo che comunque l'Iran ha oltre lui qualche calciatore ce l'ha. Qualche pedina interessante ce l'ha. Però dall'altra parte il girone è molto molto difficile. Perché non solo c'è l'Inghilterra. Ma ci sono anche gli Stati Uniti e c'è anche il Galles. E ci metto anche dentro il fatto che l'Iran a me non fa impazzire come compagine. Quindi la piazzo tranquillamente lì. Io ancora non ho capito chi so questi. Probabilmente non lo capirò mai. Non credo siano gli Stati Uniti. No perché li vedo lì sotto. Non lo so. Vabbè, mo dopo li andremo a prendere. Fatto sta che vedo invece... Questo dovrebbe essere il Giappone. Questo dovrebbe essere il Giappone, giusto? Il Giappone. Il Giappone... Ecco, sul Giappone è più difficile. Perché il Giappone volendo... Cioè, allora, io la metto tra le underdog. È quasi impossibile che passi il girone. Perché al Giappone è capitato Spagna e Germania, oltre che Costa Rica. In realtà è un girone di ferro. Perché le altre due sono piccole fino a un certo punto. Il Giappone ci ha abitato ad andare spesso agli ottavi di finale, a giocarsi le sue carte. Insomma, il Giappone male non è. È il girone che è abbastanza proibitivo. Però qualche calciatore interessante ce l'ha. Poi, soprattutto, nella cultura calcistica nipponica, si è creato quell'equilibrio fondamentale tra una squadra di calciatori che entra, quindi qualche giovane ce l'hanno, ma soprattutto l'ossatura esperta. Perché tanti calciatori del Giappone hanno già fatto diversi mondiali. Uno su tutti, Nagatomo, che è una gioia di tipo 87. Quindi, io vi chiedo, con estrema chiarezza, di fare una grande attenzione a questo Giappone per come scenderà in campo. Poi, però, ovviamente, si accavalleranno delle situazioni che andranno assolutamente valutate. E tra le underdog ci metto anche il Marocco. Perché? Perché il girone del Marocco è superabile. Belgio, Croazia e Canada. Se consideriamo che il Belgio l'ho messo tra le favorite, ma che la Croazia l'ho messo tra le outsider e che il Canada l'ho messo tra le underdog, per me il Marocco, con i calciatori che ha, quindi con Kedira, con Ziyech, con il Nesiri, insomma, ha quei profili che potrebbero, certamente, in qualche modo, provare a arrivare almeno agli ottavi. Quindi la metto tra le underdog. Ora, dubito che, se dovessero miracolosamente passare agli ottavi, dubito che possano fare più degli ottavi. Però, già questo, non mi sembra affatto male, non mi sembrerebbe affatto male. Poi abbiamo il Messico. Il Messico finisce tra le outsider. Quest'anno non è semplice, perché nel girone del Messico c'è la Polonia, la ottima Polonia, la Polonia molto italiana, dove squadre ci sono italiane, italiane in senso di Serie A nel mondiale, Polonia e Serbia, le guarderò con molta, molta attenzione. Però credo che il Messico, proprio per la tradizione calcistica, debba finire tra le outsider. Il Messico è sempre, almeno, tra le prime sedici. Tra l'altro, stavo leggendo che negli ultimi otto mondiali ha fatto sette volte gli ottavi e sette volte è uscito. Quindi, insomma, il Messico è quello. Passa e poi esce, passa e poi esce, passa e poi esce. Sarà anche questa volta così? Non lo so, non lo so. C'è possibilità. C'è Lozano, c'è qualche calciatore, c'è Raul Jimenez, c'è qualche calciatore interessante. Il Messico è sempre lì. Quindi, i giocatori celiacea, Ushua, vediamo quello che succederà. Per il momento finiscono tra gli outsider, poi li metteremo in ordine. Insomma, c'è una diversificazione, diversità tra Croazia, Danimarca e Messico, a mio avviso. L'Olanda. Allora, io con l'Olanda faccio tanta di quella fatica che voi non avete idea, perché io l'Olanda la metto tra le outsider. L'Olanda la metto tra le outsider perché per me non è tra le favorite ma, ragazzi. C'è il nome Olanda, ok, ma l'Olanda non ha fatto un europeo, poi non ha fatto un mondiale. Poi l'ultimo europeo ha fatto una prestazione normale. E nonostante qualche calciatore dietro c'è l'abbia, perché c'ha Van Dijk, c'ha De Ligt, c'ha De Frey, c'ha Dumfries sulla fascia, eccetera. E anche a centrocampo Mani non è messa, con De Jong e con altre pedine molto molto interessanti, Coppemainers, Deron, eccetera. Io credo in generale che l'Olanda sia una squadra più o meno come la Croazia, ma per un discorso completamente diverso. Cioè la Croazia è una squadra che era al top e sta calando. L'Olanda è una squadra che era a terra e sta ricrescendo. Però l'Olanda non ha campioni particolari. C'è qualche calciatore magari interessante c'è sicuramente che può fare la differenza a questo mondiale. Però io dubito che quando la Sticella si alzerà loro continueranno ad andare avanti. Cioè ottavi magari ok, pure pure, sebbene non siano così scontati nel girone con Senegal, Ecuador e Qatar. Quarti ci potrebbe pure sta, ma poi ai quarti ragazzi o becchi veramente il Qatar che ti sta andando avanti magari a Fortuna o magari la Croazia, di quel senso, il Messico, la Danimarca, e comunque te la giochi. Quando inizi ad affrontare, secondo me, una Francia, un Belgio, un Brasile, una Germania, un Argentina, una Spagna, un Inghilterra, per me uno contro uno la differenza si vede e anche abbastanza. Qui c'è il trio Galles-Scozia e Ucraina. Da questo trio è passato il Galles. Galles che finisce nelle underdog. Per me non ha zero possibilità il Galles di passare, anzi potrebbe anche fare un colpaccio e passare in vetta alla classifica prima dell'Inghilterra. In quel girone c'è anche USA e Iran, quindi semplice non è. però devo dire che il Galles c'ha quei due o tre calciatori come sempre, quindi i Bale, i Ramsey e poco più. Ce n'era un altro gallese forte che però adesso non mi viene, non me lo ricordo, ma ce n'era certamente un altro forte che avevo scritto e appuntato. Però più di underdog il Galles non è. Cioè più di una squadra che magari può provare ad arrivare agli ottavi di finale, secondo me difficilmente può fare. Poi magari arriva ai quarti, non lo sappiamo. Però insomma è un percorso non semplice da affrontare. Da quel trio lì, quindi io vedo Australia, Perù e Emirati Arabi Uniti, credo. C'è l'Australia, è passata l'Australia. L'Australia che è nel gruppo di Danimarca, Francia e Tunisia la metto tra le underdog. Può passare questo girone? È tosto, perché la Francia è campione del mondo, perché la Danimarca è in rapida espansione. Sulla Tunisia potrebbe anche essere. Però attenzione all'Australia, perché l'Australia, sicuramente in misura minore, sicuramente più scarsa, sicuramente con meno qualità, però zitta zitta è un po' il Messico. C'è una nazionale che, a parte prima di tutto, ha chiesto l'adesione qualche anno fa alla ACF, alla zona asiatica, abbandonando quella oceanica, e questo gli ha portato grande successo a livello di crescita del progetto. Ma secondo poi, l'Australia è una squadra come il Messico, perché i mondiali c'è sempre, e quindi la maggior parte dei giocatori sono consapevolissimi dei propri limiti e delle proprie capacità. Quindi attenzione a questa Australia, perché secondo me potrebbe assolutamente stupire. E di seguito, vedete un'altra bandiera dell'Australia, in realtà no, è la Nuova Zelanda, che l'unica differenza in realtà è che è un po' più accesa, e che sono un po' più rosse le stelle, però non è passata, perché è passata la Costa Rica. La Costa Rica la vado a mettere in underdog. Diciamo che, così come il Giappone, anche la Costa Rica è stata inserita in un tritacarta. Cioè, ragazzi, Spagna e Germania nel nostro girone vuol dire veramente tritacarta per la Costa Rica. Però fate attenzione, perché la Costa Rica, che per me comunque uscirà, ci ha spesso abituato a dei grandi miracoli. Io ricordo il mondiale quello lì, quello lì con Campbell, con Navas, eccetera, che erano nel nostro girone, ma nel nostro girone c'era anche l'Uruguay e c'era anche l'Inghilterra. E loro quel girone, quel raggruppamento, lo passarono, se non sbaglio, da primi in classifica. Quindi la Costa Rica potrebbe sorprendere passando il turno, però secondo me non lo passerà. Fatto sta che proprio per questo e per qualche calciatore interessante, Navas su tutti, lo vado a mettere tra gli underdog. La Polonia. Allora, la Polonia si potrebbe anche mettere tra le outsider. Però credo che... Non lo so, perché a livello di nomi... Allora, a livello di nomi è un outsider. A livello di storia e di capacità è un underdog. Perché la Polonia quando deve stupire si ferma sempre un attimino prima. Io penso la metterò tra le outsider per non prendermi insulti, però siamo lì lì. Cioè non vi nego che veramente il margine è basso, 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 basso. Perché penso la metterò in fondo alle outsider. Penso che la Polonia, nonostante avete calciatori interessanti, vi parlo di Milik, vi parlo di Lewandowski, vi parlo di Zialiski, potrei parlare per ore di tutti i giocatori della Polonia, di Szczesny, di Skorupski, di tanti altri. Secondo me la Polonia è anche una nazionale che poi quando serve fare il grande salto lo fa a fatica. Però potrebbe tranquillamente eliminare il Messico. Quindi per me finisce tra le outsider. Il Portogallo lo metto tra le zero, no, lo metto tra le favorite, ma allora, non ho sbagliato, ho messo in ordine casuale. Allora, per me il Portogallo può fare il mondiale grande. Soprattutto per la voglia di rivalza di Cristiano Ronaldo e poi perché il Portogallo come in questo momento ha una generazione d'oro. Gli sono esplosi tra le mani tutti i migliori, hanno addirittura, si sono permessi addirittura di lasciare a casa Renato Sanchez. Cioè ragazzi, al Portogallo è esploso, a parte c'è Cristiano Ronaldo, ma c'hanno Ruben Dias, c'hanno Joe Cancelo, c'hanno Joe Felix, c'hanno veramente una marea di calciatori, ma una marea di Bruno Fernandes, Bernardo Silva, hanno una marea di calciatori che veramente possono fare la differenza ad occhi chiusi. Però, ma, perché è favorite, ma, il Portogallo un mondiale non l'ha mai vinto. Il Portogallo non ha ancora quella, secondo me, quella capacità di arrivare come favorita. L'unico Europa che ha vinto, cioè l'ultimo Europa che ha vinto, l'Unico Europa che ha vinto nel 2016, l'ha vinto facendo tutti i pareggi, non so se vi ricordate il percorso del Portogallo che era quasi ridicolo, non voglio insultare, però oggettivamente era quasi ridicolo. Per questo vi dico, secondo me, bisognerebbe riflettere un secondo, riflettere un secondo su quello che poi potrebbe effettivamente essere il percorso del Portogallo. Può vincere il mondiale, sì, come il Belgio, sì, come la Francia, però se poi devo dirvi delle favorite, io quelle cinque che vedete qua sopra le vedo come favorite, quelle che vedete qua le vedo come favorite, ma Qatar, underdog, non è un outsider, però il fatto che il Qatar ospiti il mondiale, il fatto che il Qatar abbia partecipato a Coppa America da ospite, Gold Cup da ospite, le qualificazioni dell'Europeo da ospite, che abbia vinto la Coppa, la Coppa d'Asia, vinciato tutte le partite e prendendo un solo gol in finale sul 3-0 per il Qatar contro il Giappone, il fatto che il Qatar abbia fatto tutte queste cose, il fatto che abbiano scovato un sacco di calciatori da far diventare i catarioti perché avevano il passaporto a metà, il fatto che stiano preparando questo evento da anni, il fatto che sono 12 anni che stanno costruendo tutta l'infrastruttura, i giocatori lanciati, ci sono sicuramente profili interessanti, l'attaccante è bravo, a FIFA è un altro calciatore, insomma, ci sono delle grosse possibilità, inoltre erano testi di serie e quindi nel girone con Olanda, Ecuador e Senegal, non gli è andata benissimo ma manco malissimo, è un raggruppamento che si può passare, per questo e tanti altri motivi per me finisce nelle underdog. La Serbia invece la metto nelle outsider, la metto nelle outsider la Serbia perché quest'anno come non mai, cioè ragazzi, c'ha due giocatori che sono soliti due campioni, Vlaovic e Milinkovic-Tavic, c'ha Kostic, c'ha Ilic, c'ha Vlasic, c'ha Milinkovic, c'ha se Vangia, Milinkovic, ci importa, cioè la Serbia è una squadra che per me già è pronta per il grande salto, gli mancano giusto quei due o tre calciatori per poter dire di entrare nelle favorite ma e una grande prestazione a questo mondiale. Se la Serbia dovesse fare una grande prestazione a questo mondiale probabilmente il prossimo anno potrebbe entrarci come è entrato il Belgio o la Croazia al mondiale del 2018, quindi tra quattro anni in America come una delle migliori. Ragazzi, c'è tutta la possibilità del mondo di vedere la Serbia tra quelle squadre lì e visto che ha un'ossatura molto italiana io vi dico chiaramente che l'Argentina la simpatizzerò e così come simpatizzerò la Polonia e la Serbia che hanno un'ossatura molto italiana. Poi se dovesse vincere anche il Brasile o Luis Enrique non mi dispiacerebbe, insomma, questo è il novero delle squadre che insomma, poi le sto dicendo un po' abbraccio, se vi va faremo quel video che vi dicevo in precedenza. Svizzera, Svizzera outsider assolutamente, Svizzera proprio alla cieca outsider, perché? Perché sì, perché sì, perché la Svizzera che comunque non è in un raggruppamento semplicissimo ma non è nemmeno in un raggruppamento proibitivo con Serbia, con Camerun e con Brasile, la Svizzera solitamente passa il girone, la Svizzera ha eliminato l'Italia, la Svizzera è una squadra che da anni arriva lì e che ogni anno mette un tassello in più. Inoltre ha dei calciatori super interessanti, tanti che giovano nel campionato svizzero ma tanti altri che sono andati nei top 5 campionati europei e quindi si sta ritagliando anche una sorta di spazio importante in quello che poi è il futuro del calcio mondiale e quindi sì, la Svizzera parte a mio avviso tra le outsider. La Tunisia la metto in zero chance. Tra l'altro mi farete perché ho detto che le underdog c'è tutte le squadre africane invece alla fine di squadra africana ci ho messo solo il Marocco al momento perché la Tunisia l'ho messa qua, il Ghana l'ho messo qua, il Cameron l'ho messo qua spero con tutto l'amore del mondo che le squadre africane mi sorprenderanno però ragazzi la Tunisia non lo so cioè è con Danimarca Francia-Australia non ha calciatori formidabili a mio avviso è difficilissimo che passi il girone e quindi mi sento di dargli questo futuro qua cioè di metterla in zero chance di vincere il mondiale o di provarci in qualche modo. L'Uruguay lo metto in outsider l'Uruguay non è una favorita ma l'Uruguay non lo è più ormai sebbene in realtà come vi dicevo nella guida che vi lascio sempre qua sulla mia facciona in realtà sta comunque cercando di fare un cambio generazionale qual è stato il problema dell'Uruguay? Il problema dell'Uruguay è stato che è arrivato ad un mondiale quello del 2010 se non sbaglio forse 2014 comunque ad un mondiale in cui i calciatori sono esplosi all'improvviso al mondiale sono proprio completamente esplosi quindi quando si sono resi conto di che ci avevano in mano molti erano già vecchi e quindi hanno fatto una generazione con i Cavani con i Suarez con Forlanna che si stava per i dirà praticamente comunque era over con l'età e ci avevano comunque giocatori molto molto validi e adesso tanti giovani tanti giovani del tempo sono veramente invecchiati quindi Suarez e Cavani sono all'ultimissimo mondiale probabilmente anche vicino all'ultimo mondiale sono ripartiti da Vigna per dire però c'è Arauco ma soprattutto davanti c'è Darwin Nunez che è un Uruguay veramente molto molto forte che per me sarà il futuro Cavani o Suarez che dir si voglia parte come un outsider questo sì però attenzione a loro perché se dovessi metterli su un livello lo metteressi un po' sul livello dell'Olanda cioè quelle squadre lì che se dovessero vincere il mondiale uno direbbe bravi bravi sorprendente ma non miracoloso il Senegal lo metto tra le underdog l'avrei messo anche tra le outsider il Senegal vi dico la verità se non avesse perso Sadio Mané perché c'è Sadio Mané perché c'è Koulibaly perché c'è Decalci c'è Mendy importa il Senegal tra l'altro se non sbaglio ha vinto anche la Coppa d'Africa ed è una nazionale veramente molto molto forte una delle più forti nazionali della storia del calcio africano secondo me può far bene può anche passare il girone cioè paradossalmente se guardo un po' le squadre del girone Ecuador Senegal Olanda Qatar mi viene quasi da dire se dovessi mettere le stelle vi direi Olanda e Senegal sono le favorite e una favorita nel calcio africano io non la ricordo dal 2000 in poi cioè faccio fatica a dire una squadra e dire questa è favorita per passare il turno c'è sempre quella europea che è un po' più favorita c'è sempre quella sudamericana che è un po' più favorita un po' perché gli è andata bene perché tra le sudamericane potrebbe beccare l'Argentina o il Brasile ha preso gli ha preso l'Equador un po' perché gli è andata bene che tra le teste di serie potrebbe prendere magari che ne so l'Inghilterra o la Francia invece ha preso il Qatar però il Senegal ha delle grandi occasioni se non adesso o quando di passare questo girone e quindi per me finisce tra le underdog ma è un underdog davvero davvero d'eccellenza poi ci sono gli Stati Uniti che io vado a mettere tra allora sono indeciso io ho messo il Canada tra le underdog il Messico l'ho messo tra le outsider lo metto tra le outsider quindi tra quelle squadre che insomma possono sorprenderci non poco gli Stati Uniti hanno negli anni come posso dire diciamo hanno negli anni coltivato coltivato tanti campioni che poi gli sono nati sono sbocciati sia in patria che all'estero e quindi per citarvene alcuni e per farvi capire un po' poi il valore di quella che è il calcio statunitense adesso si parla di Pulisic che comunque ha 24 anni si parla di Giovanni Reina che comunque ce ne ha 20 si parla di Aronson che comunque ne ha 22 si parla di McKennie ecco lui che poi in realtà ne ha 24 anche lui si parla di Musa del Valencia che ne ha 19 si parla di Adams del Litz che ne ha 23 si parla di Serginio Dest che ne ha 22 si parla di Timothy Weah che ne ha 22 si parla di Sargent che ne ha 22 si parla di Scalli che ne ha 19 ecco Robinson palesemente da terzino sinistro del Fulham 25 anni è quello più vecchio della squadra cioè quindi capite bene che il progetto clamoroso di crescita degli Stati Uniti è qualcosa che va osservato io credo che tra 4 anni gli Stati Uniti potranno tranquillamente far parte forse non delle favorite ma delle migliori outsider e quindi ci tengo a ribadirlo e a considerare il fatto che per me gli Stati Uniti sono un outsider ma senza troppi problemi secondo me questo è detto questo mi manca l'ultimo stem quindi adesso me la studio potrebbe questa è la repubblica di Corea il Sud Corea ragazzi è il Sud Corea ecco cos'è allora Corea del Sud eh allora sapete che io Sud Corea sorpresa la metto in underdog allora è forse l'underdog meno forte forse l'underdog meno forte però però c'ha Kim però c'ha Son però ha dei calciatori che tutto sommato possono essere molto 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 interessanti per quello poi che è il progetto di crescita del del Sud Corea eh c'ha qualche calciatore Wang ce li ha ce li ha validi non mi stupirei se insomma facessero un mezzo miracolo certo è difficile passare il girone perché c'è il Ghana il Portogallo e l'Uruguay però attenzione perché oggi a sorpresa poi perché quando penso su Corea anche negli anni scorsi dico subito no vabbè zero chance ecco oggi la vado a mettere negli underdog c'ho questa sensazione addirittura più dell'Ecuador alcuni diranno sei folle sì però faccio così allora chi è più vicino al verde cioè chi è più vicino al colore è più forte quindi tra queste secondo me la più forte è l'Ecuador poi il Camerun poi il Ghana poi l'Iran poi la Tunisia e infine l'Arabia Saudita non me ne voglia le tifosi dell'Arabia Saudita per quanto riguarda le underdog per me la squadra underdog più forte allora questa è il Marocco probabilmente è il Marocco c'è il Galles c'è la Costa Rica il Qatar la Sud Corea il Senegal il Senegal è la squadra più forte secondo me delle underdog delle underdog poi ci metto il Marocco e poi ci metto il Galles poi ci metto il Qatar perché gioca in casa poi ci metto il Canada poi ci metto l'Australia poi ci metto la Costa Rica poi il Giappone e infine il Sud Corea per quanto riguarda le Outsider la squadra più forte delle Outsider madonna se è difficile credo che sia la Croazia poi l'Olanda poi la Danimarca poi l'Uruguay poi ci metto la Serbia a sorpresa poi vado a mettere il Messico poi la Svizzera poi la Polonia e poi gli Stati Uniti sì per quanto era delle favorite ma la più forte è sicuramente la Francia l'ho messa qua solo perché era favorite ma perché tutti i miei dubbi cioè sulla carta potrebbe tranquillamente essere tra le super favorite poi il Belgio e poi il Portogallo o viceversa diciamo che loro sono più o meno sulla stessa lunghezza d'onda qua parto dalla più bassa e secondo me la più bassa è la Spagna proprio per la mancanza di esperienza e di fila la Germania che sta costruendo sicuramente qualcosa però tassello per tassello a questo punto è tostissima io ci metto l'Argentina terza perché comunque l'Argentina per me ve l'ho già detto vincerà il mondiale ma c'ha dei buchi oggettivamente dei buchi li ha cioè se l'Argentina esce ai quarti non è che tutti diciamo grande delusione cioè magari sì ma anche no e quindi ha dei buchi e come tali li considero e poi c'è Inghilterra e Brasile ci metto l'Inghilterra al secondo posto e il Brasile al primo posto perché il Brasile per me è ancora più forte dell'Inghilterra quindi secondo una mia visione utopistica dovrei vedere per dire Brasile vince nella Coppa in finale con l'Inghilterra utopistica perché insomma non sappiamo gli schieramenti semifinali con Brasile che magari batte la Germania e l'Argentina che magari perde con l'Inghilterra o viceversa e ai quarti di finale che escono Spagna, Francia Belgio e Portogallo tutto sommato ci potrebbe anche stare però attenzione perché ad esempio la Danimarca che per me ha due squadre davanti negli outsider per me può tranquillamente provare ad arrivare ai quarti di finale di questa competizione ma tutto dipenderà ovviamente dagli accoppiamenti e da quello che succederà siamo arrivati qua qualcuno mi chiederà secca ma l'Italia dove la metteresti tu e magari ve lo dirò in un video dedicato magari ne parliamo magari ci dedichiamo un video se vi va fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video